Oggi parliamo di microfoni, è meglio quando parliamo in pubblico usare microfoni ad archetto, microfoni gelato come questo che sto mostrando alla telecamera adesso, oppure microfoni lavalier come quello che indosso adesso sul colletto della mia Polo? Ecco questa è la domanda a cui vorrei dare una risposta nella puntata di oggi. La risposta principale è dipende da come vogliamo utilizzare le nostre mani durante la presentazione in pubblico. Il microfono gelato che è questo, è un microfono che ovviamente ci impegna una mano, quindi un vantaggio per chi preferisce gesticolare con una mano sola, quella che ci resta a disposizione, uno svantaggio per chi vuole invece entrambe le mani libere, quindi chi vuole e chi preferisce gesticolare in maniera più ampia, in maniera più completa durante la sua presentazione. Alla stessa maniera è uno svantaggio utilizzare il microfono gelato per chi utilizza il telecomando. Che cos'è il telecomando? È questo strumento molto utile che sto mostrando adesso alla telecamera che ci permette di cambiare le slide, quindi immaginatevi di avere microfono e telecomando insieme, avendo il microfono gelato da gestire e il telecomando non abbiamo mani a disposizione per gesticolare, ovviamente se vogliamo rafforzare un concetto attraverso i gesti diventa più complicato. È pur vero che con il telecomando è un po' comunque possibile gesticolare, nel senso che anche tenendo il telecomando in mano possiamo gesticolare, sicuramente meno liberamente di quanto non potremmo fare se il telecomando non lo usassimo. Quindi molto utile e peraltro si sente molto bene il microfono gelato, ma dobbiamo sempre ricordare che ci toglie la disponibilità di una mano per quanto riguarda i gesti, per quanto riguarda lato del gesticolare. Per quanto riguarda invece il microfono lavalier, il microfono lavalier è questo microfono appunto che si indossa sul colletto solitamente, se stiamo parlando di un Apollo, oppure vicino ai bottoni di una camicia, ci sono diverse soluzioni, poi solitamente è il cameraman, la persona che si occupa dell'allestimento della sala, a darvi delle indicazioni sulla collocazione migliore per il microfono lavalier. È ottimo, facciamo attenzione alla ripresa del suono, perché in alcuni casi se il microfono lavalier è posizionato in maniera troppo distante, che cosa può succedere? Può succedere che la voce ci appaia un pochino lontana e che vengano ripresi dal microfono i suoni ambientali, cioè quelli dell'ambiente. Soprattutto facciamo attenzione se c'è un volume di amplificazione alto nella sala e quindi c'è il rischio che rientri proprio l'audio delle casse all'interno del microfono, peraltro se il microfono è troppo distante dalla bocca diventa ancora più problematico, quindi è un aspetto su cui fare attenzione. E poi ancora c'è il microfono ad archetto, il microfono ad archetto è quello che praticamente arriva quasi davanti alla nostra bocca attraverso appunto un archetto che parte dall'orecchio. Stiamo parlando di una soluzione che è molto buona, anche questa, perché ci permette di avere le mani libere per gesticolare, ci permette però di avere anche un effetto di prossimità rispetto alla nostra voce, perché il microfono è molto vicino alla nostra bocca. Con queste cose ne ho parlato nel mio libro dell'anno scorso, che è parlare al microfono, ora ve lo mostro, ed è questo. parlare al microfono, consigli, aneddoti, esempi pratici per coinvolgere il tuo pubblico. Questo libro è in vendita su Amazon, c'è un capitolo che è dedicato proprio all'utilizzo del microfono, si intitola come usare il microfono quando parliamo in pubblico, peraltro ho dedicato una puntata del mio podcast proprio a questo tema, è puntata che è contenuta in questo libro. Ecco sono tutti aspetti che vi consiglio di preparare prima, cioè la fase di preparazione della presentazione è anche una fase di preparazione degli strumenti del relatore, che fanno, possono fare la differenza nell'ambito di una presentazione che vorremmo essere di successo, che vorremmo essere, speriamo, efficace anche dal punto di vista degli strumenti che stiamo utilizzando.